Tempo di bilanci anche in Consiglio Comunale, dove a fine anno è stata pubblicata la classifica delle presenze dei consiglieri durante i lavori in aula. Due gli staccano off che si aggiudicano l'ipotetico podio, la Presidente del Consiglio, Simona Pasquali, e il Consigliere Comunale del Partito Democratico, Rodolfo Bona. Un pari merito con 451 presenze per una percentuale del 98,7% di partecipazioni alle assemblee dell'organo cittadino più importante. Per De Bona non è una novità, stesso risultato anche nel 2017. Sopra le 400 partecipazioni al voto si trovano i pidini Luca Burgazzi, Santo Canale, Paolo Carletti, Giovanni Gagliardi e Luigi Lipara. Molto operativi anche i consiglieri di fare nuova la città, i più presenti Michele Bufano, Alessio Antonioli e Sara Arcaini. Anche i banchi della minoranza sono stati ben presidiati durante l'anno. I più attivi Maria Vittoria Ceraso della lista Perri con l'81,2% di presenze alle votazioni e 53 documenti. E Giorgio Everett che con 396 presenze e ben 225 atti depositati è il più produttivo di tutto il Consiglio. Per la Lega Alessandro Carpani batte il suo collega Alessandro Fanti con 108 atti contro 77, ma viene a sua volta superato per la partecipazione al voto. 343 presenze quelle di Carpani, 446 quelle di Fanti. Ultimo in questa specie di classifica Marcello Ventura di Fratelli d'Italia. Solo 256 presenze e 38 atti depositati.